Raga per favore mi date una mano cioè lo so ogni volta che vedete questo titolo o questi titoli voi pensate che potrà mai verci ora c'è un problema che c'ha ci avrà una cavolata no c'è un problema di fantacalcio che siccome è la fissa più grande degli italiani infatti il fantacalcio degli youtuber io mi ritrovo in questo momento quasi senza attaccanti hashtag nei commenti pray for airway se avete la voglia di entrare in campo e di arruolarvi con il benevento vi prendo come attaccanti tutti voi non lo so perché in questo momento belotti burriello rotti va bene poi anche in difesa ci si mette romolo quindi ho avuto fortuna in questa zona di fantacalcio però per il futuro sono messo male gli altri chi sono politano e falcinelli cosa fanno politano e falcinelli le riserve del sassuolo quindi già che il sassuolo non gira bene con buchi quest'anno poi sono pure riserve l'altro è pellegri che è un 2001 e poi c'è pazzini l'unico che mi ha fatto gol l'altra volta l'unico che mi aveva fatto gol ho avuto fortuna perché ero rimasto appunto in 11 l'avversario in 10 ma poi si è andato soltanto chiesa se non sbaglio qui un'altra volta sculato però qui ho pareggiato ovviamente con un gol di certo è già difficile arrivare a due gol perché sono arrivato a pelo alla fascia del 72 quindi ce l'ho fatto quindi lasciate tanti like per continuare questa serie sarà un macello sarà più da mettersi a piangere che a ridere perché senza attaccanti pazzini e pellegri perché gli altri poi sono in dubbio quindi dovrò cambiare necessariamente modulo aspettando il rientro di belotti l'esito di borriello che io sto cercando infortuna borriello non mi danno niente e quello di romolo in difesa vabbè ma lì ci sono altri giocatori anche se calabria non lo fanno mai giocare e va bene widmer sta rientrando speriamo perché comunque l'udinese aveva sempre fatto bene e poi per il resto vabbè i giocatori ce li ho farò un 3-5-2 perché a centrocampo comunque buoni giocatori infatti in panchina ne ho ottenuto uno che mi ha preso 10 come sempre anche se di là aveva un avversario che aveva tenuto in panchina Luis Alberto secondo panchina gli ha preso 15 altro che pareggio mi avrebbe bombardato forse calava anche di 4-2 la partita vi racconto com'è andata nel breve anche se diciamo l'ho dovuta sintetizzare così perché ragazzi io con gli attaccanti avrò dei problemi gravi belotti che io sento in macchina si rompe che esce in barella io dico vabbè tanto mai l'ho persa c'è una di fantacalcio sta 2-0 il torino non mi segnerà mai pazzini poi vedo che scambia la situazione prende il palo pazzini poi sulla rispinta qualcuno segna kin poi rigore io mi accosto e invoco chiesa che non ha segnato visto che era uscito allora non so chi poteva appellarmi e fa gol e fa gol e ho urlato come un pazzo in macchina perché di fatto il fantacalcio si prende una fissa per la prima volta perché io il primo anno che lo faccio pazzesca comunque ragazzi senza perdere cinchiacchia la partita contro fred io avevo andanovic in porta e qui mi ha preso 5-5 un gol subito però addirittura prestazione sopra la sufficienza perché qualche parata l'ha fatta 5-5 prende gol dal benevento anche se è nella migliore difesa in difesa avevo romulo 5-5 rotto anche lui chiellini 5-5 erano degli ultimi giocatori che mi mancavo ho fatto giusto il conto infatti 5-5 con i due gol subiti ansaldi torino verona perché non metterlo 7-5 con l'assist spingerà molto si è fatto male dei silvestri quindi ansaldi giocherà molto di più a centrocampo chiesa 6 niente di che ma del resto era secondo me uno sbaglio metterlo in campo a verona col chievo dove gli attaccanti gli attacchi fanno veramente poco quindi vi consiglio quando avete il chievo contro una squadra che ne so del calibro dell'atalanta della fiorentina a tenerli in panchina i giocatori perché al massimo vi faranno un gol se vi va bene su 11 giocatori non è detto proprio bisogna quello quindi non rischiate quei giocatori che so vi parlo di un papu gomez vi parlo di un chiesa appunto vi posso parlare di un verdi se c'è chievo bologna non li rischiate va bene sono giocatori importanti dei fantasisti quelli che tirano a volte le punizioni cioè qualche rigorista però attenzione a schierarli giorginio giorginio napoli cagliari tra tutto quel trambusto perché il napoli segna sempre 3 a 0 mi fa un assist 7 e mezzo non c'è buona avventura mi entra quadrato perché l'altro panchina ora la può fanare e gli ho sbagliato perché sapevo che a bergamo era difficile mentre l'udinese affrontava una samdara che mi ha fregato per quel 2 a 0 al milan come tutti del resto penso e infatti in casa ne fa 4 fanno tirare anche i rigori non ha tirato 3 rigori diversi vabbè lasciamo stare alla fine è andata bene comunque Verdi 6 e mezzo Genoa Bologna comunque una sufficienza buona che ci sta non ha fatto gol non può sempre segnalare lui infatti in questo momento sta segnalando sempre Palacio perché di fatto neanche ha una prima punta però come centrocampista è molto offensivo Belotti 6 che doveva fare gli ha parato Nicola su un gol quasi fatto anche qua Belotti si mangia un gol non mi fa neanche perché con un gol a meno 9 e mezzo lo prendi sempre Burriello 6 e per una volta forse ha preso la sufficienza perché per il resto quando tiene in campo tutta la partita prende 5 però se mi manca anche un giocatore come lui che comunque la spal tira i rigori e il bomber ora avranno Paloschi e Antenucci penso anche con Floccari non lo so Pazzini 10 l'unico che mi ha segnato contro chi avevo contro avevo scuffè manco per idea gli è entrato Belek il punto debole di Fred infatti è forse i portieri non gli è entrato scuffè il prevedo bizzarri Belek 4 e mezzo comunque partiva da un 6 e mezzo di base io 4 e mezzo l'avevo preso una scorsa giornata prendendo un gol con Andanovic quindi di fatto è anche un voto che ci può stare gli è andato anche abbastanza bene perché l'Inter non segna mai tanto in difesa Rodriguez Romagnoli il Milan ha perso ma 6 e 5 e mezzo di fatto è buono meglio della mia coppia che Lini Romulo non gli ha giocato Abate gli è entrato il under quindi in difesa in questo momento era anche in vantaggio lui a centrocampo non gli gioca Suso e infatti chi gli entra saponare non Luis Alberto che aveva preso 15 meno male Gazzetta ti amo perché non c'è mai da fidarsi Varela e Ionita prendono a 6 e 5 e mezzo mi viene da dire ma come hai perso 3 a 0 col Cagliari cioè col Napoli che sto a dire e prendi questo voto alto almeno forse un 5 un 5 e mezzo però vabbè Youngton 7 nell'Udinese ha stravinto quindi era giusto dare anche a Youngton un bel 7 Maxi Lopez 13 e mezzo perché ovviamente vabbè ho avuto anche fortuna però Maxi Lopez quando mai fa una doppietta in questo momento Vabbè lasciamo stare poi Iguain vabbè io non è che mi son messo a piangere perché ha segnato ovviamente ragazzi ora a parte tutto il fantacalcio sarà anche una droga ma mai metterlo davanti al tifo vero infatti ve lo raccomando a tutti Cioè non è che siete i Juventini e avete contro Iguain al fantacalcio dovete guffargliela pesantemente no assolutamente poi 5 Kalinic che comunque un attaccante che poteva segnare poteva fare una buona prestazione Ha peso 5 e mi ha salvato 72 a 74 sono sesto in classifica vi ricordo che i primi 5 vanno alla fase finale quindi ancora sono un po' indietro anche se le prime posizioni sono i due primi a 8 punti e dalla terza alla quinta posizione sono a 7 e poi tutto il resto vanno da 4 in giù con l'ultima posizione a 1 quindi sono un po' nel mezzo e niente il problema mio sarà un attaccante Quindi nei commenti pray for airway se avete degli scarpini e volete entrare a giocare per il benevento il crotone la spal magari con borriello rotto c'è speranza anche il torino cerca attaccante forse lo troveranno con più facilità però ragazzi aiutatemi voi perché qui sarò costretto a giocare a una o a due punte Due punte si dai perché forse si fa il gol più facilmente però non ho grandi punte mercato di riparazione quanti crediti ho? Pochi quindi sto già nel mer... poi siamo a ottobre mercato di riparazione tra due mesi buonanotte Bella e pray for airway mamma mia fantacalcia de mer...